Salve a tutti da Italia News. A chi non è mai capitato di ritrovarsi un orso in casa che si mette a curiosare in cucina? A me francamente mai. È successo però a Pasadena in California, il tutto registrato dalle telecamere di sorveglianza che riprendono l'orso che passeggia e si introduce nella cucina attraverso una porta aperta. Due piccole teorie hanno messo in fuga l'orso. Grazie a tutti. Sicuramente il mio Bichon Frise non avrebbe avuto tutto sto coraggio. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e invitarvi ad iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti!